Ciao a tutti cari amici del Tinama Milano 3 Basket, siamo con Giuseppe Giocondo alla vigilia della sfida contro San Morenze e Pavia, una partita sicuramente importante come quella precedente contro Bocconi, un altro scontro al vertice vista della classifica. Peppe, partiamo da un tuo commento sul momento che sta vivendo la squadra. Veniamo da alcune partite ben giocate, alcune vittorie importanti come contro Bocconi, contro Robbio e Vigevano, quindi siamo carichi. Abbiamo una partita importante contro Paria, dobbiamo mantenere l'approccio, la concentrazione e l'intensità che abbiamo avuto nelle ultime uscite. Nelle ultime settimane si è vista una squadra concentrata fin da subito, qualche passaggio vuoto è fisiologico, c'è stato, però nei momenti di difficoltà la squadra si è aiutata e ha superato appunto gli ostacoli. Sì, come detto magari nelle precedenti interviste abbiamo avuto un inizio di stagione un po' complesso, diciamo un'amalgama che era normale che ci fosse un po' più di ruggine, quindi insomma abbiamo avuto qualche uscita a vuoto però abbiamo subito risolto fino a finora i problemi in allenamento, i problemi iniziali diciamo di gioco e siamo riusciti finora ad avere una buona intensità, un buon ritmo, un buon approccio alla partita. Dobbiamo però continuare così soprattutto appunto nella prossima partita che è molto importante per noi e per la classifica. Che partite ti aspetti questa sera? Ma sarà sicuramente una partita molto tosta, una partita fisica, loro hanno un'ottima difesa, quindi fanno sempre partite da punteggio basso, noi invece magari tendiamo ad avere diciamo di punteggio soprattutto in attacco abbastanza alti, quindi comunque sarà interessante capire appunto come sarà l'approccio soprattutto dei primi due quarti che indirizzeranno la partita, quindi sicuramente sarà una partita difficile comunque da giocare fino all'ultimo secondo. Sarà una partita anche speciale e particolare perché ci sono due ex giocatori che hanno giocato qui sicuramente da ricordare da ricordare maggiormente Niccolò Tandoi che ha disputato tantissime stagioni con la maglia bianco rossa però anche da citare la presenza a Pavia di Alberto Ragni che è passato qui e quindi che partita sarà per te vederli, cioè sfidarli ecco. Sì, due bravissimi ragazzi, due ottimi giocatori sicuramente Ragni abbiamo giocato insieme un anno quindi sarà sicuramente bello rivedersi con Tandoi magari c'è un affetto un po' più lungo, un po' più forte perché comunque abbiamo giocato insieme tanti anni quindi sarà strano giocare contro però insomma sicuramente lui avrà voglia di rivalsa come noi avremo voglia di dimostrare insomma di essere una squadra più forte. Ringraziamo Peppe Giocondo per essere stato qui con noi e vi ricordiamo l'appuntamento in programma questa sera alle 18 al Palaravezza per la sfida tra San Lorenzo e Pavia e il Tinaba Milano 3 Basket.